Ora è a mangiare le sushi Ma Che? Dobbiamo andare a mangiare le sushi? Ah, e no, stavo guardando Non dire niente, faccio vedere non aver visto Dai, ti arrivo, racco Cosa vuoi? Non riesco a raggiungerti, sono down Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy E oggi signori andremo a buttare i soldi al sushi Ma io non esisto Ma chi se ne frega di te che rompi sempre, oh, questo sushi Chi vince la gara? Madonna, ma che c'è fai, oh, cos'ho detto? Ah, cos'è? Io ve lo dico, non mi ricordo la strada Ah, ok, niente di nuovo praticamente Obiettivo, quanto sushi bisogna mangiare per vincere? Nostro record? Ahia, porco Stasera ho intenzione di mangiare 90 pezzi di sushi Ti scasso Guarda, no, ho perso la gola Non si mangia nessun sushi Andiamo a prenderci un bel kebab È buono Lo stai facendo, non puoi farlo Madonna, sto facendo delle cose illegali Che entusiasmo Ci siamo ritrovati in centro completamente a caso Dovamo andare al sushi Che ci facciamo in centro? Ma cosa riprendi? Che ci siamo persi, riprendi Guarda, guarda questo, guarda È rosso Verde per me Stai fermo No Dai, è un momento magico Ma è bello È che abbiamo anche prenotato Siamo in ritardo apocalittico Che quelli ci buttano fuori A calci in faccia Ma come ridi? Sembra un'aquila reale Adesso farò il rotto più lungo della storia Ce l'abbiamo fatta Un'ora buttata nel cesso Che schifo Cos'era quella schifo? Un pezzo di dente No Siamo arrivati, raga Intenzione di farmi dal male Mangio come un po' Allora, io prendo Ura sake Come? Ura maguru Ura amaebi Ura morio E Ura spicy Spalmon Raga, solo io ho preso se piace È arrivato il sushi Aspetta Inizio io Madonna Tutti i miei questi Troppo Madonna che figata è Alla vuoi tu? Che cosa sta roba? Un gamberetto Mangialo tu? Aaaaaah Quanto schifo fai? Un bocca Un no E siamo a tre Non l'ho fatto a posto A me non piace dopo che picca Cos'è sta roba? Ti schifo fai Ti sto scassando Non ti mangiare il sushi Cinque Altra portata Io Tuo Pazzo No, dobbiamo assaggiare tutto E' piccante No Mmm, è buono Siamo pari però Aaaaaah Che sfifo No C'è l'avvocato C'è l'avvocato E questo è solo l'inizio Non sono sazio per niente Abbiamo ordinato altri sei piatti Abbiamo preso 114 Ma non sanno cos'è 114 Madonna che buono questo Questo è frittissimo 13 pari Partiamo da qui Madonna è devastante Scusa il tonno Stai fatto porco Sono giapponese Mmm, non mi Ma perché non riesco Grazie Questo è il sedicesimo Mmm Mmm Senti, il mio brussel Ah 18 Ma non è devastante però 21 Sì ma ne posso mangiare altri 57 io 22 C'è arrivata una portata con le patacchini a patrica 22 pari eh 23 23 23 Ah 24 Non ti arrendi? No Buono 25 8 Guarda, guarda che casino Guarda Ma sto mangiando una panza Dai che sarà una laurea 26 Cos'è? Non lo so, non lo so Qualcosa 27 Ti arrendi eh? No Sono arrivati altri 8 E probabilmente li mangerò tutti io 30 Com'è? Un po' ficcante 31 Guarda che zingaro No, sono le patatine a paprika Buono però È un gamberetto Penso siano gamberi Ma sembra peloso Ma con se si è soffattata il naso prima Ma che stifo E tra l'altro mi sono innamorata di quella roba là Me la compri? Oh cagare Abbiamo finito l'altra portata I tramezzini Sono a quota 43 Io raga Io ve lo sto dicendo Siamo già a 51 Oddio Oh mio Dio Fa schifo Com'è? Oh Cristo Sei matto Oh mio Dio È davvero vomitevole tutto ciò 50 50 51 là Vedete quanto sei ciccio Deve ordinare qualche altra cosa? Posso Io direi che ci vediamo direttamente in macchina Per tornare a casa sempre che io riesca a guidare Ci vediamo dopo raga Ed eccoci signori In macchina dopo aver mangiato come dei porci Andiamo a farci un giretto per smaltire Di tutto e di più E noi ci rivediamo direttamente a casa Per darci la buonanotte Signori Io spero che questo video Mi sia piaciuto Se così fosse stato Vi invito a lasciare Un bellissimo like Vi ricordo inoltre che in descrizione Dovrete tutti i link dei miei social Instagram, Facebook e Google Plus Quindi se volete Seguitemi su Instagram Mi piacciono la pagina di Facebook Iscrivetevi al canale per supportarmi E io ragazzi vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi